Stefano, questo vigneto Che vigneto è? Questo è il vigneto Cascina degli Olivi, cioè quello intorno alla casa È un vigneto dove ho ripiantato molte viti perché ho dovuto sostituirle E quindi quasi tutto è rimpiantato nuovo E proprio per questo ho seminato e ho lasciato questo inerbimento molto folto Per rivitalizzare completamente tutta la terra e ricostituirla da capo Che vittinio è? Qui è Cortese, quindi uva bianca, quindi è uno dei vignetti che partecipano a semplicemente viti Quanti ettari hai in tutto di vigneto? In tutto sono circa una ventina di ettari Questo pezzettino qua sono 3000 metri e poi ce n'è un altro ettaro dall'altra parte dopo i meli La mia agricoltura è un'agricoltura completamente naturale Un'agricoltura che cerca di portare più vita possibile nel suolo Grazie ai metodi agronomici e all'aiuto fondamentale dei preparati biodinamici Qua sicuramente un architetto non c'è entrato No, è stata un'architettura molto spontanea Alla fine la cantina possiamo dire che è l'area meno, non meno importante, forse meno importante è una parola sbagliata Ma in tutto il processo qua bisogna cercare di fare il meno possibile Sì, io dico sempre che il vino si fa da sé grazie alla natura, grazie a Dio, grazie a chi vuoi Se abbiamo delle uve che sono in grado di farsi da sé Di recepire questa vitalità dell'universo che è in grado di far partire la fermentazione Perché poi il determinismo ti dice sono gli editi, sono questo, sono quello E in realtà non sappiamo nulla di cosa succede Sì, sicuramente ci sono i sacramiceti Ma perché e perché si mettono in moto non lo sa nessuno E chi sono? E chi sono non lo sa nessuno In questi trent'anni qual è la soddisfazione più grande che hai avuto? È quella di aver creato un suolo vivo, strutturato e profondo Perché di solito oggi l'agricoltura moderna uccide il suolo e noi invece lo costruiamo Siccome il suolo è la base di tutta la vita e l'humus è la base di tutta la vita Questo chiaramente è una grande soddisfazione per un agricoltore Sai anche un bel lombrico? Qui c'è un lombricazzo enorme, sì Normalmente nei terreni della vigna non ci sono molti lombrichi Perché la vigna per definizione ha terreni poveri Però qui abbiamo portato tanta vita per cui anche i lombrichi stanno bene E la terra vedete che si disfa molto bene ed è molto strutturata Anche il profumo sembra di essere in un bosco Infatti quello che conta il lombrico è la vita macroscopica Perché è grosso Quello che conta nella vita di un suolo e nell'humus è la vita microbica Quindi è la vita batterica Che è quella che dà questi profumi di sottobosco, di bosco E questi profumi vivi Perché basta il buon senso per capire che è vivo Sì Sì